Ciao a tutti, buongiorno da Massimo Curzio dalla Biggison Studio. Volevo qui presentarvi un ragazzo che stiamo seguendo anche per candidarlo a Saremo Giovani di quest'anno 2020. Il brano è molto bello, molto forte, è un cantautore e quindi proviene un po' dalla scuola dei cantautori che noi abbiamo seguito, con comunque un'immagine nuova, un vestito nuovo che noi stiamo creando per Mario Di Giovanni. Ti vuoi presentare Mario? Sì, salve a tutti, mi chiamo Mario Di Giovanni, sono di San Giorgio a Cremano e nulla, proviamo questa nuova esperienza insieme alla Biggison Studio e insieme a Massimo. Il brano è un brano che mi rispecchia tanto ed è un brano molto attuale e speriamo che mi porti anche fortuno. Va bene, allora ci ritroviamo a Sanremo, in bocca al lupo. Viva il lupo. E viva la musica. Sempre.